Basioli, voi oggi in conferenza stampa avete denunciato l'aumento di quasi il 50% dei tributi del consorzio di bonifica centro. A pagarne le spese sono le aziende agricole, gli agricoltori in particolare? Assolutamente sì. Quota 2021, supplemento di canone del 45% in più per imprese agricole, extraagricole, sospese per le imprese agricole che invece lo pagheranno nel 2022, per tutte le 14.900 utenze extraagricole, 45% in più di canone deliberato a settembre dal consorzio di bonifica per recuperare 1.600.000 euro. Si dice nella delibera, servono per compensare i costi in più, che sono però di 630.000 euro, in più c'è il contenzioso chiuso con il comune di Chieti, ma quello che veramente ci guadagna da tutta questa storia è l'ACA, che ha circa 7 milioni di euro, anzi di più di 7 milioni di euro, di debiti nei confronti del consorzio di bonifica. E il consorzio di bonifica invece che cosa fa? Prende e chiede dalle tasche dei cittadini più canoni per supplire a questo credito che non ha incamerato. Ci sono miglioramenti per le utenze? No. Tutto rimane fermo, anzi nel 2021 dalla diga di penne è arrivata acqua soltanto per tre mesi, nel 2020 erano per sette mesi, zero per quanto riguarda i fondi arrivati dal PNRR, non ci sono progetti, zero fondi per l'abruzzo dei consorzi di bonifica. E poi quello che ha sottolineato il collega Pepe, 900 giorni di commissariamento dei consorzi di bonifica significa sostanzialmente mettere il bavaglio agli agricoltori e alle parti sociali.